Buongiorno, benvenuti a Novosti di Luglio. E' la Novosti di Iulia. E' stata inaugurata dall'importante discorso tenuto dal Presidente della Federazione Russa Dmitri Medvedeva. S 4 по 6 июня в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум, на котором присутствовали представители политики, культуры и науки. Часть форума, посвященная бизнесу, была открыта президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Si è svolta dal 3 al 6 giugno la missione in Valle d'Itria di 10 operatori russi nel settore Moda Bimbo, articolate in incontri B2B, presentazione di nuove collezioni e visite aziendali in 23 imprese pugliesi del settore. La Puglia incontra la Russia e l'iniziativa dello sportello russi dell'AICAI in collaborazione con il P5 Valle d'Itria. Queste imprese hanno intrapreso dal tempo un processo di internazionalizzazione molto importante, anche grazie a supporto dei consorzzi export, Extra e Baby Italia. S 3 al 6 giugno in Valle d'Itria прошла выставка детской одежды, во время которых прошла серia встреч B2B e presentazione 23 представителей regioni Apulia. Iniziativa под названием Apulia na встречa Russia была organizowana AICAI e Sportella Russia e была направлена на продвижение производителей текстиля Apulia e Российской Федерации. Это событие стало возможным при содействии Extra e Baby Italia концернов. Se svolto Eiboli in provincia di Salerno dal 30 maggio al 2 giugno La Grande Bufala, evento dedicato alla mozzarella di bufala campana di origine protetta e dalla cucina mediterranea in genere. L'evento era patrocinato dalla campagna e dalla provincia di Salerno. La seconda edizione della manifestazione ha richiamato circa 35.000 visitatori. Sono state promosse iniziative incentrate alla scoperta della qualità, della traduzione gastronomica e del gusto. Nell'ambito dell'evento, particolare attenzione è stata dedicata all'internazionalizzazione dei prodotti locali. E stato previsto, tra l'altro, in collaborazione con Intertrade, un workshop per la tavola rotonda con la participazione di Bayer Russi. In fuel, in condiv estas not considerations, adesso increato per la Ubattia Compa cover, Hippoli e di Anja regionale per la sera dei servizionali. Il corpo a visitato 35.000 persone daおおpe insanii Lagrando bufalo, Sfoto è la regione Al半o di pratica rGramato Covidenda per la lama oteeni al condizionato di utilizzando piuttosto sviluppo tradizione alla barnizia e regioni del sud Italia. Il 29 giugno a Mosca si sono ottenute le celebrazioni per il 45esimo anniversario della fondazione della Camera di Commercio dell'Italia-Russia. I festeggiamenti si sono aperti con l'Assemblea Generale dei Socii. A seguire, durante la saluta pubblica, si è vista la presenza del Ministro Italiano per lo Sviluppo Economico Claudio Scaiola e del suo contrattare russio Elvira Nebjurina. La giornata si è poi conclusa con la cena di gala presso l'esclusivo hotel Ritzkarto. Presenti importanti personalità delle realtà imprenditoriali e istituzionali dei due paesi. In occasione del jubileo verrà inoltre realizzato un volume celebrativo, la cui presentazione avverrà in ottobre, in occasione della trasforza italorussa per i distretti industriali. 29 eugno a Mosca si è passato il 45 jubileo Italo-Russi. La giornata di Gala è stata realizzata con l'Assemblea di Gala 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 di Gala. Il risultato che si è avvicinato in ottobre e si è presentato a quando di realizzare l'Italorussi Task Force. Venerdì 19 giugno, presso gli uffici di Milano della Camera di Commercio Italo-Russia, in collaborazione con la Fondazione Centro per lo Sviluppo dei Rapporti fra Italia-Russia, ha avuto luogo la presentazione dell'opera d'arte, dialogo favorevole, sviluppato in onore del 45esimo anno di attività della Camera di Commercio. E' realizzata dal maestro Gautano D'Aurie. 19 giugno i RTP e Centr Successiano Italo-Rossi e vi rimandiamo al prossimo appuntamento e vi rimandiamo al prossimo appuntamento